L'emergenza ferma l'economia. Centinaia di eventi cancellati hanno effetti disastrosi sull'economia. E l'incertezza su quanto durerà l'emergenza impedisce la programmazione di eventi futuri. Ma se potessimo non cancellarli? Se il principio dello smart working fosse applicabile anche per gli eventi? PIC3 Communication crea eventi in remoto, in studi televisivi, fisici o virtuali. Con massimi risultati in termini di qualità e di impatto. L'emergenza non fermerà i tuoi obiettivi. L'emergenza non fermerà i tuoi obiettivi. Grazie a tutti.